Facciamo questo lavoro con passione da oltre i 30 anni. Ogni link che creiamo è come un pezzo di noi stessi, una parte della nostra storia che prende vita. Per raccontare la tua vita. È nei dettagli che si scopre la vera magia. Non esiste un link composable uguale all'altro. Perché ogni link è un gioiello che porta con sé una storia. È come una storia che non smette mai di brillare. Proprio come il bracciale composable. E chi lo indossa sa che ho significato unico che dura nel tempo.